Primo test stagionale del basketball La Mezzia, ben trovato Joseph Vita Sadi, come è andata? Quindi siamo positivi perché stiamo costruendo, siamo una squadra completamente nuova, sono felice perché abbiamo comunque cercato di dare il massimo, abbiamo fatto tanti errori ma è normale perché comunque abbiamo iniziato adesso il nostro cammino e siamo pronti a lavorare e a migliorarci. Ho visto duellare contro Andrea Renzi che ti passa un bel po' di centimetri, però tu sei un numero 5 vero, adattato ma vero. Sì, a me piace appunto dare tutto a me stesso, cercare di dare la mano alla squadra, di lottare contro chi c'è, ecco. Quale può essere l'obiettivo della tua squadra? Quindi l'obiettivo, noi adesso con questo campionato io sinceramente non lo conosco, però comunque l'obiettivo è cercare di fare il meglio possibile e se ci riusciamo a cercare di giocarci e vincere appunto il campionato. La tua impressione sull'avversario di questa sera? Sicuramente è una bella squadra, ben costruita, secondo me sono veramente una buona squadra. Bocca al lupo e buon lavoro. Ok, grazie mille. 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 Grazie.